salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di filtri e soprattutto di filtri per lui il dji mini 3 pro perché finalmente sono arrivati i kit di filtri della freewell questo marchio che io praticamente utilizzo sempre su tutti i miei droni come filtri infatti sia per il dji fpv utilizzo filtri freewell sia per air 2s ma anche per osmo action e insta one air uso sempre filtri freewell questo perché perché hanno il giusto rapporto qualità prezzo e questo è importante perché con i filtri si può si risparmiare ma poi non si ha realmente l'effetto che dobbiamo avere quando utilizziamo i filtri e finalmente freewell li ha prodotti per il dji mini 3 pro perché lui davvero ne ha tanto bisogno come tutti i droni 249 grammi soffre tantissimo la luce rispetto ad altri droni con fotocamere con dimensioni molto più importanti quindi tutti i droni hanno bisogno dei filtri ma loro secondo me un po di più infatti quando utilizziamo droni così piccoli vogliamo in zone con tanta luce tipo in alta montagna o sul mare ci accorgiamo quando ci sono gli sbalzi di luce vediamo che magari un'immagine passa da avere un'illuminazione di un certo tipo poi mentre ci giriamo vediamo questo flash di luce questo perché fanno fatica a gestire appunto tutta questa luce partiamo dal presupposto che loro si possono utilizzare anche con le impostazioni della fotocamera in automatico ovviamente non si ha il massimo della resa che ci possono dare questi filtri però sicuramente è meglio che non utilizzarli quindi anche se volete utilizzare il drone con impostazioni automatiche utilizzate i filtri scegliete quelli giusti come gradazione e la fotocamera comunque anche in automatico sarà in grado di gestire meglio tutti i parametri per quel tipo di riprese con quel tipo di luce con quella situazione in cui si trova a impostare i parametri però sicuramente non li sfrutterete al massimo ma come diceva sempre qualcuno piuttosto di niente è meglio piuttosto quindi utilizzateli anche in automatico piuttosto di non utilizzarli e lui sicuramente farà riprese migliori di quelle che potrà fare senza utilizzarli frivoli ci mette a disposizione questi due kit abbiamo kit n di classico che vada n di 4 fino n di 64 come utilizzo per video e foto e poi abbiamo addirittura un n di mille da utilizzare solo per le foto per fare foto con una lunga esposizione però io non lo utilizzo mai perché non sono così un fanatico delle foto quindi preferisco i video quindi lele di mille io non utilizzo però nel kit lo trovate quindi un kit davvero completo partite dall'idea che è un n di 16 lo utilizzate quasi sempre mentre se volete volare in posti come questo per intenderci ma non sarà più n di 16 ma probabilmente neanche un n di 32 ma un n di 64 con condizioni di luce così e questi riflessi dati dall'acqua ragazzi n di 64 tutta la vita ma cosa dovete fare per utilizzarli al meglio per utilizzarli al meglio è semplice dovete andare e impostare lo shooter cioè la velocità dell'otturatore al doppio di quello che sono gli fps di utilizzo del video che state facendo quindi se registrerete un video in 4k a 30 fps la velocità dello shooter dovrà essere di un sessantesimo è tipo io che utilizzo sempre di già fpv in 4k passate fps in quel caso utilizzo quasi sempre filtri n di 16 poi dipende ovviamente dalla situazione comunque normalmente n di 16 e lo shooter regolato a un cento ventesimo perché è il doppio di 60 e 120 quindi questo il parametro base che dovete regolare se volete utilizzare il manuale dopodiché una volta che avete impostato lo shooter al doppio degli fps avete scelto la gradazione dei filtri che imparate poi ad utilizzare in base alla situazione di luce che c'è comunque come io ho detto n di 16 abbastanza all'utilizzo base nelle giornate di sole normale n di 32 64 con tanti riflessi quindi neve sole di alta montagna acqua come in questo caso e poi abbiamo gli n di 8 n di 4 quando c'è poca luce quando siamo magari al tramonto quando siamo all'alba questo poi lo imparate anche man mano che utilizzate che comunque secondo me c'è anche una diversità di utilizzo in base al drone utilizzate quindi conoscete il drone conoscete i filtri da utilizzare quindi dopo aver impostato lo shooter al doppio degli fps basterà solo andare a regolare l'iso per avere la giusta luminosità che sia quella che diciamo da la massima resa al video o alle foto che state facendo quindi è davvero semplice utilizzarli però come avete visto qua ho due kit e qua ho un altro kit o kit polarizzato cosa vuol dire che abbiamo sempre dei filtri n di 4 n di 8 n di 16 n di 32 n di 64 ma polarizzati quindi la lente è polarizzata questo ci permette di avere degli utilizzi diversi rispetto all'n di normale soprattutto se utilizziamo quando non c'è l'acqua di mare in questo caso acqua di mare quindi acqua mossa non è acqua piatta come quella di una piscina per intenderci quindi utilizzate loro mentre se dobbiamo riprendere un paesaggio se dobbiamo riprendere gli edifici dove ci sono tante vetrate o magari anche l'acqua di una piscina che comunque è liscia loro potrebbero venirci utili e darci un effetto secondo me molto cinematografico però anche questo è un po soggettivo tanti preferiscono utilizzare solo loro e non loro averli tutte e due secondo me ci fa capire ovviamente le differenze e quale preferiamo noi a livello personale perché poi alla fine quando guardiamo un video una foto dal punto di vista dei colori dal punto di vista del risultato finale è anche molto soggettiva la cosa è molto personale il risultato finale che può piacere ad uno o non a un altro ovviamente a meno che siano cose estremamente brutte o estremamente spettacolare che a quel punto magari accontenta tutti ma se no è dato molto anche dal gusto personale frivole in questo caso ha creato dei filtri adesso ve li faccio vedere che ne ho qua già uno montato sulle dj mini 3 perché come sapete lui alla fotocamera che sta sia orizzontale che verticale questo per fare video soprattutto per instagram sono davvero la morte sua perché non abbiamo più un video tagliato ma è proprio la fotocamera che si mette in maniera verticale questa è una novità secondo me da non sottovalutare di questo drone pazzesco perché comunque parliamoci chiaro i social network come può essere instagram tiktok stanno davvero spopolando e avere la possibilità di avere video verticali è tanta tanta roba soprattutto perché porta tanti contenuti magari come anche dei reel con delle riprese fatte con il drone e quindi freeware nel caso utilizzassimo i filtri polarizzati ripeto solo per i filtri polarizzati mentre per gli nd non c'è nessun problema è indifferente che la fotocamera sia messa così o così quando utilizziamo quelli polarizzati abbiamo questa ghiera con vedete la v di verticale o qua l'h di orizzontale quindi per avere la massima resa non che se non girate questa ghiera il video faccia cagare non è così è che se volete avere la massima risa dei filtri polarizzati di freewell ce l'abbiamo se giriamo questa ghiera in base all'utilizzo che dobbiamo fare quindi metteremo questa tacchettina adesso cerco di farvela vedere c'è un piccolo segnetto bianco su h se la fotocamera dovrà stare così mentre andremo a girare la ghiera e andremo a mettere la tacchettina bianca su v vedete se la fotocamera dovrà stare verticale quindi vista per verticale h per orizzontale quindi questo è un consiglio dei frivoli che ha creato questa doppia funzione per avere la massima ottimizzazione però come vi ho detto non è che se non girate la ghiera da orizzontale a verticale questo non funzioni non ha la massima ottimizzazione però funziona allo stesso io ho provato e comunque il risultato è ottimo in tutti i casi infatti alcuni dei prossimi video che arriveranno saranno appunto con l'utilizzo di loro filtri nd e di loro filtri polarizzati e così capite che resa si hanno con lui e infatti in quei video non farò né color correction non farò niente lascerò tutto così come ha registrato il drone e per chi ha un dj mini 3 pro si renderà conto di come c'è stata una gestione della luce perché parliamo di video fatti con una luce pazzesca con giornate come questa per intenderci cioè guardate il cielo e il risultato finale è incredibile per come normalmente invece faccia fatica lui ma come tutti i droni a gestire la tanta luce che normalmente gli arriva nel sensore è uno dei vantaggi del dj mini 3 pro è sicuramente anche come fissato il filtro alla videocamera perché è come quello di un drone professionale quindi non è più un aggancio così fatto in qualche maniera creato dai produttori di filtri per tentare di fissare un filtro alla videocamera di un drone ma è proprio creato ad hoc basterà girare questa piccola ghiera che alla fine è solo un guscio protettivo niente di più non ha lente non ha niente solo un guscetto di plastica andare a prendere il filtro vedete che ha lo stesso aggancio che vanno ad agganciarsi in queste due piccole sporgenze basterà andare ad inserirlo girare e tac in un attimo abbiamo messo il filtro e non è agganciato in qualche maniera ma è ben saldo alla fotocamera e questo ci fa capire come dj aveva puntato a rendere questo drone molto molto professionale in tutti i suoi particolari quindi ragazzi finalmente freewell ha prodotto i filtri li ha commercializzati era ora perché io ne avevo tanto tanto bisogno perché lui ne ha tanto tanto bisogno e adesso è un drone pazzesco dal punto di vista della fotocamera era già incredibile perché comunque ha delle caratteristiche sicuramente top ma con loro diventa qualcosa di pazzesco io ragazzi ve lo ridico come ho detto inizio video se volete utilizzare i filtri anche con impostazioni automatiche della fotocamera acquistateli lo stesso comunque fanno fanno comunque qualcosa non come se impostate le impostazioni manuali che comunque semplice da impostare per quanto riguarda l'utilizzo dei filtri ma se proprio non volete impostare niente utilizzateli lo stesso cambiano davvero il risultato finale del video che avete registrato è tutta un'altra cosa quindi ragazzi questo mio video in cui vi portato queste novità da parte di freewell che ha prodotto i filtri anche per il dj mini 3 pro e come utilizzarli vi è piaciuto e vi sta a tutti lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram porto tante novitanti prime spoiler anche di loro spoiler dell'utilizzo dei filtri spoiler delle location di dove vado a provare i droni tantissimi spoiler arrivano su instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi cupo a sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale magari anche di loro riesco ad avere qualche cupo a sconto ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o novità ciao al prossimo video